Doppio colpo della Juventus. La Juventus sta dimostrando di essere carichissima in questi ultimi giorni di mercato e secondo me non ha intenzione di fermarsi. La Juventus infatti è chiusa per gli acquisti di Nico Gonzalez che lascerà la Fiorentina e sui nella crepe bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto che con un prestito oneroso fissato a 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto al verificarsi in determinate condizioni fissato a 25 milioni di euro più 5 bonus. Quindi l'argentino arriverà a Torino per una cifra complessiva di 38 milioni di euro, quindi bonus inclusi, con il giocatore che insisteva da mesi nel lasciare la Fiorentina e inirsi al club bianconero. E nonostante appunto di tanti alti e bassi finalmente la trattativa è arrivata alla conclusione. Cifre abbastanza alte se si può dire rispetto a quanto ci si aspettava all'inizio e quanto voleva spingere la Juventus in alto. Alla fine si è chiuso a 38 milioni di euro. Il giocatore è atteso tra questa sera e domani mattina a Torino per appunto svolgere visite mediche nella giornata di domani e firmare un contratto. Contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2029, quindi un contratto di 5 anni. Ma non solo Nico Gonzalez arriverà a vestire la maglia della Juventus, perché arriverà alla Juventus anche a Francisco Conceisau, figlio del ben noto Sergio Conceisau, che appunto era allenatore al Porto fino all'anno scorso e in questo momento non lo è più. Con il giovane talento portoghese che lascerà il Porto e si unirà i bianconeri, anche lui in prestito ma senza opzioni d'acquisto. Infatti diventerà un nuovo giocatore alla Juventus con un prestito oneroso di 6 da 7 milioni di euro più 3 di bonus, quindi sarà in pratica un prestito secco a una cifra complessiva di 10 milioni di euro. Quindi non sarà inserita nessuna opzione d'acquisto. Però la trattativa è stata chiusa per Francisco Conceisau, con il giocatore che anche lui arriverà nei prossimi giorni a svolgere visitamente e firmare il contratto. Con Conceisau, che è arrivato con un prestito secco, non è da escludere un possibile arrivo non in prestito secco ma con un prestito con obbligo di riscatto di Gedon Sancho, con la Juventus che vuole rinforzare il più possibile il reparto offensivo e soprattutto le fasce. Gedon Sancho che nonostante avesse fatto pace con Tenaghi non lo convoca ugualmente per le partite, non è nemmeno in panchina. Quindi con il talento inglese che deve essere salvato da questo United e dall'allenatore portoghese, dall'allenatore olandese, scusate, un'altra volta. E la Juventus è ben propensa appunto ad accettare e a salvare il suo talento. Voi che cosa ne pensate? La Juventus è carichissima, sono ottimi i colpi secondo voi? Ditemi la vostra.